Saludato Gesù Cristo, sempre saludato. Apocalisse capitolo 5 E vidi nella destra di lui, che sedeva sul trono, un libro scritto di dentro e di fuori, e segnato con sette sigilli. E vidi un angelo forte, che con voce grande esclamava, Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? E nessuno poteva, né in cielo, né in terra, né sotto terra, aprire il libro, né guardarlo. E io piangevo tanto, perché non si trovò chi fosse degno di aprire il libro, né chi lo guardasse. E uno dei signori mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, stirpe di David, ha vinto di aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. E guardai, ed ecco in mezzo al trono e ai quattro animali e ai signori, un agnello sui suoi piedi, come scannato, che ha sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio spediti per tutta la terra. E venne e prese il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono. E aperto che ebbe il libro, i quattro animali e ventiquattro signori si prostrarono dinanzi all'agnello, avendo ognuno di loro cetre e coppe d'oro piene di materie odorifere, che sono le orazioni dei santi. E cantavano un nuovo cantico dicendo, Degno sei tuo, Signore, di ricevere il libro e di aprire i suoi sigilli, poiché sei stato scannato e ci hai ricomperati a Dio col sangue tuo, uomini di tutte le tribù e linguaggi e popoli e nazioni. E ci hai fatti per il nostro Dio re e sacerdoti e regneremo sopra la terra. E guardai e udì la voce di molti angeli intorno al trono e agli animali e ai signori, ed era il numero di essi migliaia di migliaia, i quali ad alta voce dicevano, E degno l'agnello che è stato scannato di ricevere la virtù e la divinità e la sapienza e la fortezza, e l'onore e la gloria e la benedizione. E le creature tutte che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra, cioè nel mare e quante in questi luoghi si trovano, tutte le udì che dicevano, A lui che siete sul trono e all'agnello vi dà benedizione e onore e gloria e potere per i secoli dei secoli. I quattro animali dicevano, Amen. I ventiquattro signori si prostrarono bocconi e adorarono lui che vive per i secoli dei secoli. Spiegazione dell'Apocalisse capitolo 5 Versetto primo Questo libro speciale che vide San Giovanni era scritto dentro e fuori, cosa straordinaria per il Santo Apostolo, perché i libri degli antichi erano lunghi pezzi di carta peccora o di carta d'Egitto, a volte attorno a un cilindro di legno e non erano scritti se non dalla parte interiore. Questo, il quale conteneva molte grandi cose, era scritto anche per di fuori. Il libro era sigillato in sette zone di esso. Ciò che San Giovanni vede dopo che viene aperto ciascuno dei sigili, non lo leggeva nel libro, perché questo assolutamente non poteva leggersi, finché non erano rotti tutti i sigilli. Le cose che gli vide prima che il libro fosse stato aperto, sono quelle che sotto ciascun sigillo erano nascoste. Questo numero di sette sigilli, posti perché nessuno potesse leggere quello che era scritto nel libro, indicano l'importanza e la profondità dei misteri che esso conteneva. Versetti 2 e 3 E vidi un angelo forte che con voce grande esclamava Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? E nessuno poteva né in cielo né in terra né sotto terra aprire il libro né guardarlo. Quello che dice l'angelo dimostra la suprema altezza dei consigli di Dio inaccessibili agli stessi angeli che sanno solo ciò che piace a Dio di farne loro parte. Quindi si dice che né in cielo né in terra né sotto terra si trovava chi potesse o leggere o guardare solamente lo stesso libro. Tutto l'universo non aveva tra i puri spiriti e tra gli uomini che fosse capace di una così grande impresa. Versetti 4 e 5 E io piangevo tanto perché non si trovò chi fosse degno di aprire il libro né chi lo guardasse. E uno dei signori mi disse Non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, stirpe di David, ha vinto di aprire il libro e di sciogliere i suoi sette sigilli. Il leone della tribù di Giuda è Gesù Cristo nato dalla stirpe di David. Della tribù di Giuda, secondo la profezia di Giacobbe, è rappresentato nella stessa profezia con l'immagine di Forte Leone. Infatti leggiamo nel libro della Genesi al capitolo 49 Giuda è un leoncello, corresti figlio mio alla preda. Poi per riposarti t'accovacciasti come un leone. Chi oserà svegliarlo? Lo scettro non verrà ritolto a Giuda, nell'impero la sua discendenza, sinché venga chi deve essere mandato, ed egli sarà l'aspettato delle nazioni. Laverà nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo mantello. Più belli del vino sono i suoi occhi e più bianchi del latte i suoi denti. Egli solo ebbe il potere di aprire questo divino libro sigillato. Gesù è anche chiamato leone per la sua fortezza. Con cui trionfò della morte, del diavolo e del peccato. Versetto 6 L'agnello sui suoi piedi è Gesù Cristo che è chiamato leone nel versetto precedente per la sua immezza fortezza e qui viene detto agnello a motivo della sua mansitudine e della sua innocenza. Con il nome di agnello che toglie i peccati del mondo fu indicato da San Giovanni Battista, come leggiamo nel Vangelo di San Giovanni a capitolo 1. Ed è agnello di Dio sia perché per volere e comando di Dio fu egli immolato, come si dice il sacrificio di Abramo, quello che Abramo offrì. Sia perché figlio di Dio e nella sopraccitata profezia di Giacobbe, come sostenero diversi padri della Chiesa, non assolutamente leone, ma figlio del leone chiamato. Quindi ecco spiegato l'antichissimo uso di rappresentare Gesù Cristo sotto la figura di agnello, come ricorda anche il VI Concilio Generale, al canone 82, e l'uso degli agnos dei nella Chiesa romana sin dai tempi del Papa Gelasio, cioè più di 16 secoli fa, poiché i neofiti nella Domenica in Albis, deponendo la veste bianca, ricevevano dal pontifici un agnello di cera, col quale dono erano ammoniti a costudire l'innocenza ricevuta nel battesimo e ad avere sempre gli occhi della mente fissi su Gesù Cristo, autori della loro rigenerazione. Il quale, dalle loro colpe, li aveva amondati nel suo sangue. L'agnello era sui suoi piedi come scannato. Quest'agnello divino fu visto da San Giovanni stare in piedi come vivente e come nostro Avvocato davanti al trono di Dio, come dice Sant'Agostino, e fu veduto come ucciso perché conserva i segni della morte sofferta per noi nelle piaghe che tuttora egli porta. E anche egli è come ucciso relativamente alla quotidiana ovulazione che si fa di lui nel sacrificio eucaristico, dove si rappresenta la morte di lui, risuscitato e vivente, e quindi egli non è ucciso, ma appare come ucciso. E si allude qui al sacrificio perenne dell'agnello che si offriva alla mattina e alla sera nell'antica legge, come leggiamo nel Libro dell'Esodo al capitolo 30. L'agnello ha sette corna. Le sette corna sono il simbolo della potenza dell'agnello di Dio, quindi queste corna sono paragonate a quelle del rinoceronte, nel Libro del Deuteronomio. A capitolo 33. La sua bellezza è come del primogenito d'un toro. Corni di rinoceronte e i suoi corni. Con essi getterà in aria le genti, sino ai confini della terra. Sono queste le mirei adi di Efraim e queste le migliaia di Manasse. Corni di rinoceronte e i suoi corni, con essi getterà in aria le genti sino ai confini della terra. Queste parole indicano simbolicamente la croce di Cristo. Le corna di lui sono l'estremità della croce, perché per virtù di questa croce tutte le genti ha gettato in aria medante la fede, trasportandole dalla terra al cielo e le getterà in aria un'altra volta nel giudizio. Di queste dice il profeta Abacu, le corna nelle mani di lui e fece robusta la dilezione della sua fortezza. Cioè, come spiega San Girolamo, in Dio Padre i cieli ricopersi di gloria e la terra riempì di laude del Cristo e le corna, cioè il regno, pose in mano del figliolo suo, per fare che il suo diletto fosse amato dagli uomini e amato fosse non scarsamente, ma ardentemente e fortemente. In tal maniera lo amò colui che diceva che ci separerà dall'amore di Gesù Cristo, come leggiamo nella Lettera di San Paolo Apostole Romani a capitolo 8. L'agnello aveva sette occhi. I sette occhi dell'agnello sono, come spiega lo stesso San Giovanni, il simbolo dei sette spiriti di Dio che sono spediti per tutta la terra ad eseguire la volontà del Signore. Questo numero di ministri dell'Altissimo si nota in altri passaggi della Sacra Scrittura, come nel libro di Tobia, a capitolo 12. Allora Egli disse loro in segreto Beneditegli Dio del cielo e rendetegli lode dinanzi a tutti i viventi, perché ha usato con voi la sua misericordia. Veramente, è bene tenere nascosto il segreto del Re, ma è lodevole rivelare e manifestare le opere di Dio. Buona è l'orazione unita al digiuno. È meglio fare l'emosina che mettere da parte mocchi di oro, perché l'emosina libera l'anima della morte. Essa purifica dai peccati e fa trovare la misericordia e la vita eterna. Quelli invece che fanno il peccato e l'inequità sono nemici della propria anima. Io dunque vi manifesto la verità e non vi terrò più nascosto questo mistero. Quando tu pregavi con lacrime e seppellivi i morti e lasciavi il tuo pranzo e durante il giorno tenevi nascosti in casa tua i morti e di notte li seppellivi, io presentai al Signore la tua orazione e siccome eri accettati a Dio, fu necessario che la tentazione ti mettesse a prova. Ed ora il Signore mi ha mandato perché io curassi te e liberassi dal demonio Sara, moglie del tuo figlio. Io dunque sono l'angelo Raffaele, uno dei sette che stanno dinanzi al Signore. Versetti 7 e 8 e venne e presi il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono e aperto che ebbe il libro i quattro animali, i ventiquattro signori, si prostrarono dinanzi all'agnello avendo ognuno di loro cetre e coppe d'oro piene di materia d'orifere che sono le orazioni dei santi. Dunque il libro viene aperto. Appena l'agnello cominciò a rompere i sigili del libro, i quattro animali, i ventiquattro signori, vedendo come l'agnello aveva il potere di aprire il libro, e di manifestare ciò che in esso si conteneva, proruppero i ninni di lode a Dio e all'agnello stesso. La versione greca dice e preso che ebbe il libro, i vari signori avevano delle cetre e delle coppe d'oro di materia d'orifere. Ciascuno dei signori aveva la sua cetra e la sua coppa d'oro, la cetra per accompagnare le orazioni di lode e ringraziamento, le quali gli stessi signori spandevano davanti a Dio non solo in proprio nome, ma anche di tutti i giusti della terra, dei quali le preghiere, le lodi, le adorazioni, sono a Dio presentate ai santi, che con Dio regnano in paradiso. L'orazione, paragonata ad una materia odorosa, per significare come essa, per l'ardore della carità, si innalza verso il cielo e a Dio è gradita come se fosse un suave profumo. In questo passaggio si allude ancora ai profumi, i quali nel tempio di Salomone si offrivano su un altare a ciò destinato. Questi profumi, ottimi ami, si bruciavano nel santuario, ma il fuoco per bruciarli si prendeva dall'altare degli Elocausti che era nell'atrio del tempio. Ciò simboleggiava il fervore dell'orazione unita alla mortificazione, simboleggiata nel fuoco, che perennemente ardeva sull'altare degli Elocausti. Come leggiamo nel Libro del Levitico, a capitolo 6, Il fuoco poi arderà sempre sull'altare. Il sacerdote lo manterrà mettendovi ogni mattina la legna sulle quali imporrà l'Olocausto e farà bruciare il grasso delle ostie pacifiche. Versetto 9 E cantavano un nuovo cantico dicendo Degno sei tuo, Signore, di ricevere il libro e di aprire i suoi sigilli. Poiché sei stato scannato e ci hai ricomperato a Dio col sangue tuo, uomini di tutte le tribù e linguaggi e popoli e nazioni. Questo cantico singolare e armonioso è ripieno di soave e divina dolcezza, poiché esso contiene non solo la gloria dell'agnello, ma anche quella della sposa di Lui, cioè della Chiesa, e la letizia dei Santi. Ed è quel cantico che il re David volle che si cantasse a Dio, come dice il Salmo 149. Alleluia! Cantata al Signore un cantico nuovo, risuoni la sua lode nell'assemblea dei fedeli, si rallegri Israele nel suo creatore, i figli di Ision esultino nel loro re, l'odino su nome tra le danze, con timpani e cetri inneggino a Lui, perché si compiace il Signore nel suo popolo ed esalta gli umili a vittoria. Esultino i fedeli nella gloria e si rallegrino sui loro giacigli, le esaltazioni di Dio siano nella loro bocca, gli spade o due tagli nelle loro mani, per fare vendetta tra le genti e castigare i popoli, per legare in ceppi i loro re e i loro grandi manette di ferro, per compiere su loro il giudizio già scritto. E questa è la gloria riservata a tutti i Suoi Santi. Alleluia! E così disse Sant'Agostino All'uomo vecchio un vecchio cantico, un nuovo cantico all'uomo nuovo, vecchio testamento, vecchio cantico, nuovo testamento, nuovo cantico, chi ama le cose della terra canta un cantico vecchio, chi il nuovo cantico vuol cantare ami le eterne. La stessa dilezione è nuova ed eterna ed è sempre nuova perché non invecchia già mai. Il cantico della pace è questo, il cantico della carità. Quando i signori dicono degno sei tuo, Signore, di ricevere il libro e di aprire i Suoi sigilli, si riferiscono a Gesù Cristo. Con la sua passione morte meritò di avere da Dio Padre il potere di rivelare a chi volesse le cose future concernenti principalmente lo stato della sua Chiesa e dei Suoi fedeli. 24 signori, rappresentando tutte le anime dei giusti, glorificate in virtù del sangue di Gesù Cristo ed elette da tutti i popoli della terra, senza distinzione di ebreo o pagano, di greco o di barbaro, cantano a nome di tutti i santi, presenti e futuri, questa solenne e grandiosa lode all'agnello sacrificato per essi. Versetto 10 E ci hai fatti per il nostro Dio re e sacerdoti e regneremo sopra la terra. Sovrani come a venti parte al regno di Gesù Cristo in qualità di Suoi fratelli e Suoi coeredi e sacerdoti per la partecipazione che essi hanno al sacerdozio dello stesso Gesù Cristo. Come ci ricorda San Pietro Apostolo nella sua prima lettera a capitolo 2 Perciò è detto nella Sacra Scrittura Ecco, io pongo in Sion una pietra principale angolare, scelta, preziosa e chi in lei crederà non rimarrà confuso. Per voi dunque che credete essa è di onore mentre per quelli che non credono la pietra ricettata dai costruttori è divenuta la pietra angolare e pietra di inciampo e pietra di scandalo per coloro che urtano nella parola e non credono mentre a questo erano pure destinati. Ma voi siete stirpe eletta sacerdozio regale Gente santa popolo d'acquisto affinché proclameate le virtù di colui che dalle tenebre vi ha chiamato la sua meravigliosa luce voi che un tempo non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio voi che prima non foste partecipi della misericordia ora invece partecipate della misericordia allora noi sappiamo che i giusti già regnano nella terra di morenti attraverso il dominio che hanno delle proprie passioni e regneranno in paradiso che è il regno dei vivi glorificati con Gesù Cristo come chiamate a partecipare alla gloria e alla potenza di Lui Versetto 11 Il numero degli angeli nella Sacra Scrittura è sempre detto grandissimo e immenso come leggiamo nel libro del profeta Daniele a capitolo 7 un fiume di fuoco impetuoso usciva dal suo cospetto migliaia e migliaia lo servivano e miriadi a centinaia di migliaia stavano ai suoi cenni la seduta giudicale incominciò e i libri furono aperti Versetto 12 i quali ad altavoce dicevano è degno l'agnello che è stato scannato di ricevere la virtù e la divinità e la sapienza e la fortezza e l'onore e la gloria e la benedizione è degno l'agnello che tutte le creature riconoscano e adorino in Lui la sua virtù la divinità la potenza eccetera con sette titoli è celebrato qui l'agnello cioè come pieno di ogni virtù Dio per sua propria natura è sapiente forte degno di ogni onore e di essere glorificato e benedetto e ciò perché Egli è colui che rompe i sette segilli da cui era chiuso il libro e nel quale i misteri delle cose future si contengono così a Dio che libera i suoi fedeli dalle sette piaghe sette titoli di lode sono attribuiti come vedremo nel capitolo 7 dell'Apocalisse Versetto 13 E le creature tutte che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra cioè nel mare e quanto in questi luoghi si trovano tutte le eudiche dicevano A Lui che siete sul trono e all'agnello benedizione onore e gloria e potere per i secoli di secoli Nel versetto precedente sono introdotti gli angeli e i giusti glorificati a cantare le lodi dell'agnello Qui tutte le creature e quelle che sono nel cielo e quelle che abitano la terra e quelle che sono sotto la terra e nel mare tutte sia le ragionevoli che le irragionevoli cantano il loro inno a Dio e all'agnello Così gli angeli gli uomini giusti che sono in cielo gli spiriti che sono nel purgatorio i demoni e gli stessi dannati nell'inferno benché a loro dispetto e tutto l'immenso popolo delle cose create alza le voci in onore di Dio dell'agnello e il cielo e la terra e il mare e i luoghi sotterranei e l'inferno e il purgatorio tutto rimbomba di festose canzoni in queste uguale è l'onore che si dà all'agnello e a Dio quindi per Dio è riconosciuto e adorato l'agnello in tutti i luoghi e da tutte le creature Versetto 14 i quattro animali dicevano Amen e ventiquattro signori si prostrarono bocconi e adorarono lui che vive per i secoli dei secoli quindi essi acclamavano con gaudio alla fine dell'inno dicendo Amen così è così è è degno è degno sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato Siano sempre lodati benedetti ringraziati e amati i santissimi nomi di Dio di Gesù di Maria Santissima e di San Giuseppe O nostro Dio noi crediamo noi vi adoriamo noi speriamo noi vi amiamo vi domandiamo perdono per coloro che non credono non vi adorano non sperano e non vi amano